benvenuti cari amici in questo video saluto bello gioioso perché è vero che tra qualche oretta porterò il computer presso il negozio di fiducia per l'aggiornamento quindi non ci vedremo per un paio di giorni però mi raccomando voi se il canale a disposizione ci sono tanti video poi c'è la paginetta deluxe television voi lo sapete non vi lascio mai soli poi la paginetta dopo neanche due giorni sta riscuotendo già un po di successo anche se non sto a vedere tanto lì certo in piccola parte se no sarei un bugiardo e quindi comunque ci vediamo presto credo che massimo 20 oggi beh se non sarà possibile entro la fine di questa settimana penso che già dalla prossima ci potremo rivedere ok ciao a tutti ci vediamo ragazzi ragazzi